345 persone identificate, 7 denunciate, 263 veicoli controllati, 100 grammi di hashish, 14 di cocaina e 6 di marijuana, posti sotto sequestro. Sono questi alcuni dei numeri dei servizi straordinari di controllo del territorio effettuati nelle quartiere Rancitelli di Pescara dal 5 al 10 ottobre e comunicati questo pomeriggio in prefettura a Pescara nel corso di una conferenza stampa. Questo non è un consuntivo ma è semplicemente i dati relativi a una settimana. I controlli continueranno nei prossimi giorni con modalità tempistica che decideremo insieme ai metrici delle forze di polizia. La conferenza stampa di questo pomeriggio in prefettura ha rappresentato anche l'occasione per chiarire e spiegare quello che l'amministrazione comunale vuole fare nel quartiere di Rancitelli. Andremo sicuramente ad abbattere i fabbricati di Via Lago di Borgiano che sono stati interessati dagli eventi sismici. Sono 87 appartamenti però l'intenzione nostra non è quella di ricostruire in quella zona ma è di creare al posto di questi immobili degradati parchi, piazze per dare spazio alla possibilità delle persone per bene di incontrarsi nei luoghi pubblici riqualificati. Poi andremo verso Via Tavo dove ci sono i ruderi dei palazzi clerico che sono lì da oramai oltre 40 anni. Sono degli scheletri che degradano tutta la zona e con un intervento di housing sociale abbatteremo quei fabbricati per poi, e già stiamo ragionando con la regione, arrivare al ferro di cavallo perché l'operazione più importante è proprio quella di intervenire sul ferro di cavallo per fare in modo che i cittadini si sentano anche liberati da quella morsa che oggi rappresenta una negatività forte per la città. Quindi se riusciremo, come sono certo, a concordare con la regione tempi e modalità di abbattimento avremo fatto un'operazione che rimarrà nella storia di questa città.